ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario enterogea informazioni commerciali titolare baldechi snc di baldechi e innocenti concessionario baldechi snc di baldechi e innocenti confezioni enterogeos 30 capsule enterogeos 60 capsule formulazione 1 capsula uguale amido di riso carbone vegetale esempio s di finocchio frutto oligosaccaridi indicazioni mangime complementare per cani e gatti che aiuta a regolarizzare il transito e la funzionalità intestinale in caso di diarrea e meteorismo posologia gatti e cani di piccola taglia 1 capsula 2 volte al dia cani di taglia media e grande 1 capsula 3 volte al dia se necessario la dose giornaliera può essere anche raddoppiata la capsula può essere somministrata tal quale o aperta e miscelato il suo contenuto nel cibo fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato ciao